Il dietro le quinte della delibera appena approvata dall'Assemblea Territoriale Idrica Agrigentina, l'azienda consortile a base provinciale sull'esempio di Napoli. Il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua e il Forum Siciliano dei Movimenti per l'Acqua e i Beni Comuni hanno esultato a seguito di quanto deliberato da Lati. L'Assemblea Territoriale Idrica Agrigentina, ovvero i 43 sindaci agrigentini, all'unanimità hanno deliberato che sarà un'azienda consortile, non una società per azioni, al gestire il servizio idrico e fognario nell'agrigentino. I Forum Italiano e Siciliano dei Movimenti per l'Acqua e i Beni Comuni hanno elevato la provincia agrigentina a modello da seguire in Italia, dove solo Napoli al momento adotta la stessa forma di gestione. E ciò con una differenza. Napoli è azienda consortile su base comunale, invece nell'agrigentino l'azienda consortile progettata sarà su base provinciale, quindi consorzierà tutti i 43 comuni. Almeno così è secondo i Forum e secondo quanto avrebbe deliberato Lati. Avrebbe perché, nonostante i tanti interventi di Gioia e Letizia per la delibera approvato dall'Assemblea Territoriale Idrica Agrigentina, nessuno dei tanti, tra sindaci e politici, si è premurato di rendere pubblico il testo ufficiale della delibera, limitandosi solo ad approssimative, spesso confusionarie, comunicazioni telefoniche. In attesa di maggiori lumi, anche e soprattutto su tappe, modalità e tempi per la costituzione dell'azienda consortile idrica agrigentina su base provinciale, come funziona la prima e attualmente unica azienda consortile idrica in Italia, ossia Napoli? A Napoli l'esservizio idrico è gestito dall'azienda consortile ABC, acronimo di Acqua Bene Comune, e già il titolo è più che eloquente. Napoli è riformita da quattro acquedotti che circondano la città. Tra parentesi, a Nangrigent, un'azienda consortile su base comunale come Napoli, sarebbe una follia impraticabile, perché la città dei templi non è circondata da fonti e sorgenti idriche, ma dalle discariche. E anche i due fiumiciattoli Acragas e Ipsas sono divenuti ricettacolo di rifiuti e scarti di ogni genere. Angrigento è condannata a importare l'acqua da fuori i propri confini, paga e pagherà sempre il prezzo. Chiusa la parentesi, a Napoli l'azienda consortile è di proprietà del Comune, che è un ente pubblico. La città ha pertanto invertito il percorso intrapreso con l'acqua e con i rifiuti negli anni 90, quando le aziende municipalizzate sono state trasformate in società per azioni private o a partecipazione mista tra pubblico e privato. Anche a Napoli, nel 2001, l'azienda municipalizzata per l'acqua, l'Aman, è stata trasformata in società per azioni, la RIN SPA, una società di diritto privato. Poi nel 2013, la svolta con l'avvento del sindaco Luigi De Magistris e la costituzione dell'azienda comunale ABC Napoli, acqua bene comune, sull'onda del referendum del 2011, quando quasi 30 milioni di italiani hanno votato a favore del servizio idrico pubblico. E dunque, ad oggi, Napoli è l'unica città metropolitana in Italia dove la rete idrica è di proprietà pubblica. L'acqua del sindaco è buona, la bolletta costa meno che in altre città e l'azienda consortile che la distribuisce è inattivo. Sarà così anche per Agrigento e la sua provincia?